Il Lagozzano conquista il settimo pareggio nel campionato e sale a quota 10 in classifica. Il Lagozzano 2-2 con il Ponte Lera che ha confermato la propria forza e ha dimostrato di meritare l'attuale posizione di classifica. Vale tanto per il morale di Rosso Blu, match vibrante che si apre con una insidiosa punizione di Caponi. Decenco sul secondo palo non ci arriva per una questione di centimetri. All'ottavo spina cadenaria ma il direttore di gara lo ammonisce per simulazione. Il Ponte Lera si fa vedere al ventunesimo con un tiro di Semprini che non va lontano dal palo. Occasionissima Rosso Blu al ventiseiesimo. Splendido colpo di testa difedato su angolo di guitto. Mazzini è semplicemente miracoloso nel salvare il risultato. Al ventinovesimo Gozzano in vantaggio. Il merito è difedato che si avventa sulla corta respinta della difesa ospite e scarica in rete un grandestro. L'ex Bari poi corre ad abbracciare in panchina il mister Sassarini. Palla al centro, dormita difensiva inspiegabile del Gozzano e Barba tutto solo dimenticato da Tomaselli firma la rete dell'1-1. Ponte Lera che sfiora il gol al trentottesimo. La traversa respinge il bolide di Pavan. La ripresa vede crescere la squadra toscana che prende il comando delle operazioni costruendo occasioni in serie. Sono almeno quattro le chance. Due volte è semprini a far scorrere i brividi ai tifosi del Gozzano. Poi, dopo le proteste per un fallo di mano, è sempre lui di testa a non trovare il bersaglio da favorevolissima posizione. Ci prova al 59esimo anche Bernardini, ma la sua conclusione va sull'esterno della rete. Il Gozzano resiste e dal settantesimo ha a sua volta una colossale occasione con il solito fedato migliore in campo. Il Ponte Lera ripassa in vantaggio ancora con Barba grazie ad un pregevole avvitamento di testa. Manca poco alla fine, ma la reazione rosso-blu è rabbiosa. Fedato da Corner, sigla il 2-2 e poi Secondo ed Emiliano al minuto 86 non trovano lo spazio per il clamoroso 3-2.